è un bel problema quando si fa merge to hdr e abbiamo lavorato senza treppiede che ne abbiamo lavorato a mano libera è possibile che ci siano dei problemi di allineamento allora come ovviare secondo me le cose più facili da fare per risolvere questo problema sono cose da fare sul campo piuttosto che a casa ovvero se stiamo utilizzando una lente stabilizzata usiamo la stabilizzazione questo aiuta sicuramente se stiamo scattando all'aperto cerchiamo di tenere i tempi di scatto più brevi possibile minore l'intervallo tra uno scatto e l'altro e minore sarà il disallineamento piuttosto sacrifichiamo un pochino i valori iso o qualche altro parametro ma cerchiamo di tenere i tempi rapidi e cerchiamo di utilizzare una lente più grandangolare possibile perché il movimento sarà tanto più evidente tanto quanto più la nostra lente è lunga queste sono tutte cose da fare sul campo possiamo puntellarci contro un muro per stare più fermi e pieno di cose che possiamo fare sul campo per ovviare a questo fastidioso problema